Benvenuti, in questo video vogliamo discutere con voi, parlare con voi di Pietro Pomponazzi. Facciamo un piccolo, un'introduzione dell'introduzione. Allora, nell'umanesimo Platone viene riscoperto, dopo l'abbandono medievale di quest'autore e dopo il successo presso la patristica, ricordate Agostino aveva cristianizzato Platone, nell'umanesimo i testi di Platone vengono tradotti dal greco e viene riscoperto. Pure Aristotele viene riportato in auge, non che durante il Medioevo Aristotele non avesse goduto di fortuna, per carità, Aristotele resta l'ipsedixit, però viene riportato in auge nel Quattrocento specie per la sua indagine naturalistica della Fiusis. Gli aristotelici concordavano tra loro sull'importanza dello studio della natura contrapposta all'indagine religiosa e misticheggiante dei platonisti. C'è Gemisto-Pletone che pubblica le differenze fra Aristotele e Platone, in cui esalta il platonismo come filosofia unificatrice delle tendenze religiose. Poi salta fuori il trapezunzio che difende invece Aristotele, con l'opera confronto fra Platone e Aristotele, secondo lui più adatto Aristotele alla conoscenza della realtà naturale. Bessarione cerca di conciliare platonismo e aristotelismo, cioè da una parte la razionalità metafisica platonica e la razionalità naturalistica aristotelica, e dice che queste due grandi correnti di pensiero immortali possono trovare una sintesi nel cristianesimo. Ci sono i platonici, i cristiani, la scolastica, Sant'Ommaso d'Aquino, i quali sostengono da secoli l'immortalità dell'anima. Ecco la tematica di cui andremo a discutere parlando di Pomponazzi, circa l'immortalità dell'anima. È questo uno dei grandi temi del Quattrocento, della riflessione intellettuale del Quattrocento, ma che era una riflessione scientifica. Naturalmente all'epoca sono in pochi a mettere in discussione l'immortalità dell'anima, anche perché la tortura e il rogo sono degli orizzonti sempre possibili. Qual è il libro, motivo del contendere, che parla dell'immortalità dell'anima? È il De Anima di Aristotele, ma anche la metafisica. Aristotele aveva tripartito l'anima in vegetativa, le piante, sensitiva, gli animali, e razionale, gli uomini. Naturalmente l'anima razionale partecipava anche di quella sensitiva, l'olfatto, la vista, i sensi, li ha anche l'uomo. Ma quest'anima razionale è un ente immateriale che però, per conoscere, ha bisogno del corpo. L'uomo è, dice Aristotele, sinolo, è tenuto insieme di anima e corpo. È un corpo che ha un'anima. L'anima, per parte sua, è una somma di funzioni che governano il corpo. Dopo Aristotele c'era stato il suo grande commentatore, Alessandro Afrodisia, dopo Cristo, il quale aveva, come dire, lanciato questa bomba scientifica, metafisica e culturale. Alessandro Afrodisia aveva detto l'anima muore, non è una sostanza spirituale. E questo era il motivo del contendere su questa tematica qua. Gli intellettuali, filosofi, gli scienziati del Quattrocento si interrogavano su questa tematica qua. Poi nel XII secolo era saltato fuori Averroè, che aveva tirato fuori il principio della doppia verità. Ci sono due verità che viaggiano su due binari paralleli, la verità della religione e la verità della filosofia. La verità della religione, le sacre scritture, la Bibbia, viaggiano su questo binario. Le verità della filosofia sono su un altro binario e i binari non si incontrano, vanno paralleli. E le questioni filosofiche sono per addetti ai lavori. Ora, tale tesi Averroista della doppia verità la sposa il nostro Pietro Bomponazzi. Pietro Bomponazzi, mantovano, formatosi nell'aristotelica Padova, professore ora neo-aristotelico a Bologna, dove morì nel 1525. Padova era il grande baluardo a formazione aristotelica, ma anche stoica, di Bomponazzi. La prende a Padova, che era una cittadella dell'aristotelismo in Italia, come cittadella dell'aristotelismo era Parigi in Francia. Che dice Pomponazzi? Pomponazzi sostiene nel suo libro sull'immortalità dell'anima pubblicato nel 1516, siamo a tre anni dal principe di Machiavelli, che l'anima anche se Aulet, se profuma di immortalità, esiste ma nasce e perisce con il corpo. E qui stava contraddicendo i platonici. L'anima per Pomponazzi non può agire senza il corpo, è un composto di corpuscoli, leggeri, più leggeri degli altri corpi, ma se è immortale, dice Pomponazzi, è immortale perché è la fede che ce lo dice, è Sant'Omaso che ci dice che l'anima è immortale, è immortale, ma mortale per il corpo. E Pomponazzi qui cerca di fare ordine. La fede è rivelazione e sacra scrittura e va creduta, dice Pomponazzi. non si sa se per effettiva convinzione o per paura del ruoco, ma non è un processo razionale, la fede non è razionalmente giustificabile. Attenzione, questo è un punto fondamentale. Pomponazzi non dice che Dio non esiste, non è ateo, però dice che la fede o la si accetta o non la si accetta, terzium non datur. E qui principio di non contraddizione aristotelico. Ma Pomponazzi è profondamente aristotelico, è profondamente alessandrino, legato all'alessandrismo. La pubblicazione sull'immortalità dell'anima di questo libro a Bologna nel 1516 di Pomponazzi creerà un putiferio. Il libro di Pomponazzi viene bruciato a Venezia, lui dovette ritrattare con l'accusa di eresia davanti a Papa Leone X, ma invece di ritrattare il nostro, direbbe Edoardo Capatocht, scrisse un'opera, un'apologia, in difesa del suo scritto. Salvo poi continuare a comporre, ma non pubblicare più niente. E lo dirà nelle lezioni anche ai suoi allievi. Per carità, scrivete, componete, ma non pubblicate per non dover finire davanti al leone decimo e peggio davanti al rogo. Però Pomponazzi continua a pensare quello che pensa, dice che noi siamo filosofi e usiamo non la fede quanto la ragione. Quindi per Pomponazzi l'anima è mortale. Qual è la prima conseguenza? È che se l'anima è mortale non c'è vita dopo la morte. Questa affermazione ha degli effetti giganteschi. Se come forma del corpo è mortale, se l'anima muore durante questa esperienza terrena, se non c'è un al di là, c'è solo l'al di qua, se non c'è un sopracielo, c'è solo il cielo sublunare, noi, quello che Aristotele sublunare era del mondo. Ma che senso ha parlare di paradiso, di inferno e di purgatorio? Non esistono i premi e i castighi cristiani. Il premio e il castigo, qui Pomponazzi è strettamente aristotelico. Se c'è è terreno, è greco, se c'è è terreno. Si gioca tutto qui, si gioca tutto su questo campo da calcio. Se un uomo in vita esercita la virtù, il premio è la virtù stessa. La felicità, ecco l'aristotelismo di Pomponazzi, la felicità è strettamente legata alla virtù. E il castigo è semplice, è una vita bestiale, è il vizio. Il castigo è una vita senza virtù, è la vita senza virtù già il castigo, ma non in un altro mondo, in questo mondo. Una vita mediocre, brutta, nell'al di qua, è il castigo. Non c'è bisogno dell'inferno, di questi contenitori fuori dallo spazio e fuori dal tempo. No, si gioca tutto ic et nunc. La vita morale è nella vita, non nel timore di un'aldilà. Per cui, dice Pomponazzi, possiamo benissimo fare a meno di un'anima immortale. La morale cristiana c'è. Pomponazzi non nega il binario della fede, però lui è sul binario della filosofia, dell'indagine razionale. La morale cristiana c'è per guidare il popolo, ma il popolo osserva la vita come un bue osserva un mulino a vento. Un bue che ovviamente va guidato, queste non sono parole nostre, un bue che va guidato nella stalla in modo anche piuttosto elementare, con comandi brevi, secchi. Per questo c'è, dice Pomponazzi, la religione. Ma filosoficamente la religione è irrilevante. Lui fa questo grande passo in avanti, che sa di modernità, a cavallo tra il 400 e il 500. Pomponazzi vive a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Pomponazzi svincola per sempre la morale della volontà divina, seppur con l'Arvatus Prodeo, diceva Cartesio, trincerandosi dietro la doppia verità averroista. I due binari ci devono essere, perché se il binario diventa unico mi porta direttamente a rogo. Poi lasciamo sulla mortalità dell'anima e passiamo al suo secondo libro, secondo di quelli che analizziamo in questo breve video, breve speriamo, De Incantationibus, sugli incantamenti, che compone ma non pubblica, perché ha mangiato la foglia, ha imparato la lezione, non vuole tornare davanti a Leone Deci. In questo libro, De Incantationibus, sugli incantamenti, che è un libro sull'astrologia, si domanda ma esistono i miracoli. Esistono cause soprannaturali dei fenomeni naturali, ci sono come dire meccaniche divine che muovono la meccanica sublunare. Pomponazzi risponde, bisogna anteporre l'esperienza all'autorità. Qui scopre sempre un po' di più le carte. Quando queste due confliggono, oportet stare sensui, cioè conviene attenersi ai sensi, quando i sensi sono veri. È inutile ricorrere ai demoni, alla maronna, abbiamo i sensi. L'esperienza diretta si segue a quella. E qui torna, sempre vogliamo spostare ogni accusa di ateismo a Pomponazzi. Pomponazzi non era ateo, il mondo è creato da Dio, che lo ordina secondo leggi naturali. Ma poi, e qui è anche greco, aristotelico, il motore immobile, il dio aristotelico che è qualcosa di attrattivo, è un dio impersonale, una necessità logica quale. Non è il dio di Pomponazzi il dio della rivelazione, il dio personale della Bibbia. No, è un dio aristotelico distante. Ma poi Dio, dopo la creazione, si disinteressa del mondo e soprattutto delle vicende umane. Pomponazzi critica i miracoli, le magie, le stregonerie, pacotiglia, sono risposte sbagliate a fatti naturali. Ci possono essere influssi dei corpi celesti, ma sono tutti inseriti nell'ordine naturale e razionale voluti da Dio. L'astrologia deve essere vista, se c'è, in modo razionale. Poi più tardi diventerà astronomia e l'astrologia diventerà una credenza superstiziosa. Siamo arrivati all'ultimo libro di Pomponazzi, quello che comporrà prima di morire. Si chiama il De Fato. Lo compone, non pubblica neppure questo. Nel De Fato Pomponazzi mostra più che un pensiero aristotelico, mostra anche di essersi abbeverato alla fonte stoica, all'anno grande del mondo. Nel De Fato parla di libero arbitrio e di predestinazione. Queste erano le tematiche tangibili sulle quali i filosofi del 400-500 si attaccavano, ma non erano ozia letterari, non erano discussioni, come molte volte mi dicono, le discussioni dell'aria fritta o il sesso degli angeli. No, queste discussioni erano scientifiche che servivano a liberare poi la libertas filosofandi, la ricerca scientifica. Senza Pomponazzi non avremmo avuto Galilei, non avremmo avuto Bruno. Sono pensatori fondamentali, sono tutti relazionati. Nella storia della filosofia non bisogna vedere i filosofi svincolati, come diceva il grande Remo Bodei, come dire il filosofo che viene dopo, come killer, assassino del filosofo che viene prima. è sempre tutto strettamente connesso. Un filosofo risponde a un altro che risponde a un altro ancora, che risponde a tematiche, a querelle, a discussioni che erano vivissime allora all'epoca e erano di vitale importanza. Nel De Fatto Pomponazzi scopre definitivamente le carte, non che le avesse eccessivamente coperte, davanti a Leone X gli porta un'apologia dove dice no, io ho ragione nel campo della verità filosofica, non nel campo della fede, non mi interessa la fede. Io sto parlando di filosofia. E quindi mostra, Pomponazzi, nel De Fatto, nel campo del libero arbitrio umano, quanto la sua visione fosse lontana però da quella cristiana e vicina al determinismo degli stoici. Il Fatto è un ordine universale predefinito che governa gli eventi dell'universo. E il Fatto è il fatto che si configura come una catena rigidissima di cause ed effetti che decide ogni gesto umano. Quindi, libero arbitrio cristiano dove puoi fare quello che ti pare. No, l'essere umano è inserito storicamente all'interno di una catena di cause ed effetti rigidissima. Poi, Pomponazzi è anche socratico, l'uomo fa il male per ignoranza, perché ignora il bene. Se conoscesse il bene farebbe il bene, ma fa il male perché ignora il bene. E poi mostra lo stoicismo. Seneca paragona l'uomo a un cane con una corda né troppo lunga né troppo corta, che gli dà comunque un equilibrio. Per dire che l'uomo è libero entro certi limiti. Quali sono i limiti? L'influsso celeste, che comunque c'è là, la luna governa le maree e il maestro delle donne, e il fato. Gli influssi celesti e il fato sono i limiti della libertà dell'uomo. Quindi l'uomo deve adeguarsi all'ordine razionale del mondo. Questo adeguarsi all'ordine razionale del mondo è il libero arbitrio dell'uomo, secondo Pomponazzi, che riprende gli stoici e confligge con il libero arbitrio cristiano della rivelazione. La vita morale, cioè virtuosa, è superiore qui e ora rispetto alla vita immorale, cioè alla viziosa. Quindi Pomponazzi, questo grande alessandrino naturalista a cavallo fra il Quattrocento e il Ciccocento, ci ricorda, e siamo addirittura di arrivo, ancora oggi che il gioco si realizza e si conclude tutto durante questa esperienza terrena. Per cui, o portet, è opportuno vivere bene adesso. Siamo arrivati alla fine. Concludiamo dicendo come per l'opera di grandi pensatori come Ficino, Pico e Pomponazzi, che hanno aggiunto e valutato altre autorità come Platone, Aristotele, intese oltre all'autorità delle Sacre Scritture, grazie a questi giganteschi pensatori del Quattrocento italiano che hanno valutato anche gli oracoli caldei, ricordate il corpus ermetico che si rifaceva, Giordano Bruno si rifaceva, la sapienza egizia e il corpus e i caldaici, gli oracoli caldaici, caldei, che si riferivano alla sapienza babilonese e che avevano anche valutato la cabala, questi grandi pensatori, cioè la Bibbia interpretata dagli ebrei in senso simbolico. Che insomma, questi grandi pensatori, Pomponazzi, Fico, Ficino, ho fatto una crasi, mettendo in tensione, ponendo in discussione, diciamolo pure, mettendo in crisi la verità indiscutibile delle Sacre Scritture, hanno fatto vedere a noi posteri i primi barlumi di modernità e ci hanno mostrato la possibilità dell'ancor più moderno principio della tolleranza. Grazie.